Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 24 ottobre. Ascoltiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 13, versetti dal 10 al 17. In quel tempo Gesù stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. C'era là una donna che uno spirito teneva in ferma da 18 anni, era curva e non riusciva in alcun modo a stare dritta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse, donna sei liberata dalla tua malattia. Impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla, ci sono sei giorni in cui si deve lavorare. In quelli dunque venite a farvi guarire e non in giorno di sabato. Il Signore gli replicò, ipocriti, non è forse vero che di sabato ciascuno di voi slega il suo bue o l'asino dalla mangiatoia per condurlo ad abbeverarsi. E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto prigioniera per ben 18 anni, non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di sabato? Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. Il Vangelo di oggi ci trasmette un episodio accaduto a Gesù in giorno di sabato in una sinagoga. La liberazione di una donna che uno spirito, è scritto, teneva in ferma da 18 anni. La liberazione di questa donna, la sua guarigione quindi spirituale e fisica, avviene attraverso alcune azioni di Gesù nei confronti di lei. La vide, la chiamò a sé e infine impose le mani su di lei. Questi sono atti che insieme alle parole che Gesù rivolge, donna sei liberata dalla tua malattia, proclamano la liberazione dal male come atto che scaturisce dall'amore e non da qualche potere di altra natura. L'amore di Dio guarisce e libera. Un amore che viene veicolato attraverso la vista, che si esprime nella voce, che chiama e che ci comunica tutta l'intenzione che c'è nel cuore di Gesù. E poi questo amore che si comunica anche attraverso le mani, che trasmettono lo Spirito Santo e rendono concreta l'azione amorevole di Dio che trasforma, purifica, riconcilia, santifica nel profondo. La questione che però emerge a riguardo proprio della guarigione di questa donna consiste nella polemica in rapporto al luogo e al tempo in cui Gesù guarisce. Luca infatti specifica che ci troviamo di sabato in una sinagoga e sorprende che il capo della sinagoga si rivolga alla folla non per negare la liberazione di questa donna ma per ricordare alla folla la sacralità della legge che comanda il riposo da ogni lavoro nel giorno di Shabbat, il sabato. La questione interessante è che nell'intento di screditare Gesù di fatto non viene ripreso Gesù ma viene ripresa la folla che tuttavia sembra non curarsi di questo rimprovero perché al contrario, come è scritto, esulta per le meraviglie che Gesù aveva compiuto. Per la folla non c'è legge che tenga, non si può non esultare per le meraviglie compiute da Gesù se non altro perché in quel sabato una donna che per 18 anni non poteva stare in piedi, in quel sabato viene vista da tutti camminare a testa alta. Ciò che rende la questione interessante è il fatto che stando alle parole di Gesù questa liberazione non poteva non avvenire in giorno di sabato. Gesù stesso infatti dichiara che proprio durante lo Shabbat è necessario operare questo tipo di liberazione. Ecco perché Gesù dice proprio questa parola una figlia di Abramo che Satana tenuto prigioniera per 18 anni non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di sabato. Ecco secondo Gesù una figlia di Abramo doveva essere liberata nel giorno di sabato dato che la guarigione e la liberazione realizzano il senso profondo dello Shabbat, del sabato. La liberazione dal male è quindi legata allo Shabbat, al tempo scelto e consagrato da Dio per il riposo perché è durante lo Shabbat che Dio ha voluto liberare l'umanità da tutti i mali, dal potere della morte. Cristo è sceso agli inferi per liberare Adamo ed Eva dal peccato durante il grande sabato, il grande santo sabato come viene chiamato il sabato santo della liturgia latina nella liturgia ortodossa, il grande santo sabato. Oggi quindi il Vangelo ci fa meditare questo grande Shabbat della Pasqua di Cristo che scende nelle nostre morti, nei nostri inferi attraverso il segno di questa liberazione che in qualche modo è segno e profezia della liberazione operata da Cristo per tutto il popolo, per tutta l'umanità. L'Evangelista Luca quindi racconta di questa liberazione avvenuta nel giorno di Shabbat come un segno talmente importante che questo miracolo diventa causa di vergogna per gli avversari di Gesù e nell'altro lato motivo di esultanza per coloro che sono capaci invece di riconoscere questo legame profondo tra la liberazione che Cristo ha compiuto nel grande santo sabato e la liberazione che in quello Shabbat i presenti in quella sinagoga stavano vivendo. Chiediamo allora al Signore che come ha fatto in quel giorno di Shabbat per questa donna ricurva oggi rivolga lo sguardo su di noi, ci chiami a sé, ci tocchi con le sue mani perché anche noi come questa donna possiamo essere liberati per ricominciare a camminare a testa alta con il sorriso sul volto e l'esultanza nel cuore. La nostra gioia infatti viene dall'annuncio della fede che scaturisce dal grande santo sabato, dal grande Shabbat in cui Cristo è sceso fino agli inferi per visitare le nostre morti e per tirarci fuori dalle nostre tombe. Ringraziamo il Signore che ci ama così tanto e ci fa vivere con gioia e libertà per la grazia di questa fede anche oggi. Buona giornata.